Da questa parte. Coraggio, Shani! Cosa credi che possano farti dei granchietti? Attaccarti! Non ci credo! È come essere in un sogno sberlocicante! Questa caverna entra nella lista a posti da favola! Che mondo pazzesco che c'è sotto gli scogli! Sapevi che i granchi rubano! Ora da dove cominciamo? Tuffiamoci in mezzo ai gioielli. Beh, mi sacrificherò per amare delle perle. Meravigliosa! Laila, concentrati, dobbiamo trovare l'anello. Giusto, l'anello. Shani, guarda che quel pallore sulla tua faccia non ti dona neanche un po'. Ragazze! Sono intera! Quando parlavate di un sogno intendevate un incubo, vero? Forza, resisti, Shani! Sto arrivando! State buoni, siamo amici! Ah! L'anello deve essere da qualche parte. State indietro, furbacchioni! Sbrigati, Laila! Non posso tenerli lontano ancora a lungo! Aspetta! Forse l'ho trovata in questo qui! Ma guarda che belle pietre preziosi! I miei complimenti, signor Pocket! Andiamo! Si salta! Piano adesso! Dobbiamo calarci molto lentamente, come se... Coraggio, oscilliamo! 30 metri di scivolate e neanche una ciocca fuori posto! Adoro la mia nuova lacca! Potere Megapolli! Non è malmesso! Tornerà nuovo in men che non si dica! A meno che tu non intende immediatamente, ci serve un altro mezzo! Sì! La riunione del comitato organizzatore comincia tra quattro minuti e non possiamo mancare per nessuna ragione! Potere Minipolli! Tutte la mia! Poterebbe! Quattro minuti! La mia! Quattro minuti! Quattro minuti! Quattro minuti! Quattro minuti! Nemico a ore 12 Ciao, ciao, bello Oh no, tutto quello che ho fatto è stato inutile Non riuscirò mai a vincere queste elezioni E se non diventerò sindaco non potrò fare una legge Che impone a Polly Pocket di cedermi il suo medaglione Oh, non è vero che è stato inutile E a me il tuo comizio è piaciuto un sacco Tu eri l'unica presente Sono l'ammiratrice numero uno di Bonnie Bale Vota per lei se furbo sei Ti prego, il giornale dice che sono sotto di ben 40 punti Il vecchio sindaco BB Kiss era praticamente la vittoria in pugno Sai che con questa la gente ottiene sempre una montagna di voti, Polly A scuola è riuscita a farsi eleggere presidente del comitato del ballo Anch'io ho votato per lei Che cosa dovrei fare? Chiedere a quella piccola e insopportabile a rivista Di gestire la mia campagna elettorale? Grazie di aver posato per me Amo tantissimo lo stile giungla Ah! Potere Megapalli su di te! Fai che ogni giorno sia molto speciale, portati di più di quanto hai fatto prima, guadagnati il rispetto, l'amore e la stima, diventa una stella, si è eccezionale! Sei stata brava, Polly! Il tuo balletto è stato davvero divertente! Sembrava quasi che non sapessi quello che stavi facendo! Sì, ma la verità è che era tutto calcolato! A quanto pare qualcuno ha bisogno di dormire! Dai, non è ancora neanche buio! Ho altri impegni! Ecco, vedete, ora devo studiare! Non puoi farlo nel fine settimana? Anche quello è hyper mega super occupato! E se andassi da Peanut nel suo locale con Shani e Laila, ripasserei la lezione lì! Vi prego! Avete finito la partita! Dobbiamo metterci sotto con lo studio! Uno a tutti, ragazzi! L'impegno con mio padre durerà solo un minuto! Faccio il mio dovere e voi portateli in piscina! Polly! Aspetta, prima dobbiamo rimpicciolirli! Giusto! Allora, gente, seguitemi! La strepitosa festa a cui state per partecipare avrà luogo sul pianeta Marte! Ma io non vedo niente! Ebbè, Roma, dovete fidarvi di me! Questa sarà l'esperienza più sicura e naturalmente più chic e più buia della vostra vita! Stiamo per partire! Prendetevi per mano e preparatevi a compiere il vostro viaggio nello spazio! Adesso chiudete gli occhi e cominciate a sognare la più astronomica e divertente festa mai fatta prima! Voglio la festa speciale! Potere mini polli! Da questa parte! Non aprite gli occhi, altrimenti vi rovinerete la sorpresa! Siete pronti? Ora apriteli! Tuffatevi! O nuotate! O immergetevi! O entrate in acqua scendendo gli scalini a passo lento e molto più sicuro! E poi godetevi l'ottimo gelato Saturno e il super frullato via Latte! E non perdetevi nessuno degli incredibili eventi della serata! Una sfilata di moda! Un'esifizio dell'avvivo! E un tuffo dallo spazio cosmico! Una vera sfida eseguito da Polly! Finora è stato facile! Sono tutti a posto! Vado ad aiutare il mio padre! Corri, preta! Non mi dona questa gradazione di verde! Sei proprio bella! Mio padre probabilmente è troppo modesto e non gliel'ha detto, ma è uno dei migliori architetti della città! Ehm, Polly? Sì! E ha un cervello che è davvero geniale! E si trova nella sua testa, già! Ma il centro ricreativo è un progetto che gli sta molto a cuore! È un posto in cui ogni famiglia di Littleton può sentirsi come a casa! Sì, a casa! Dove a tavola ci si mette la cuffia da bagno! Oh! Questa? Non è una cuffia! Serve a impedire che i capelli si arruffino mentre dormo! Ma visto che non penso che mi addormenterò durante la cena! Proggi! Proggi! Partenza! Yuhuu! Pura adrenalina! Gira stretto in quella curva! Grazie, nonna Coach! Tieni, ti porti! Yuhuu! Bravissima! Che salto! Le Pockets sono tornate ufficialmente in pista! E adesso? Dopo questo rettilineo c'è un'ampia curva! Ce la puoi fare! Ora ascoltami bene, Gwen! Perché questo è un ordine! Assicurati che Polly sia in prima posizione quando arrivi a metà gara! Qualcosa la colpirà, ma lei non riuscirà a capire che cosa! Ricevuta? Ricevuto che? Vabbè, lo considero come un sì! Go! Via! Spostati, l'umacone! Non devi darle retta! Ignorala! Questa è la tua gara, Polly! Guadagniamo terreno! No, 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 no! Non è questo che voglio! Nonna, reggi, ti porti! Levati da lì! Ti sta arrivando addosso! Usa il medaglione, Polly! Hai ragione! Potere mini Polly! Potere mega Polly! No, 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 no!